Salve a tutti, in questo video tutorial andremo a vedere cosa un programma gratuito e facilmente scaricabile come Microsoft 3D Builder ha da offrire. Purtroppo questo programma è disponibile solamente per sistemi Windows, quindi per tutti coloro che ci stanno ascoltando da sistemi Apple Macintosh consiglio di andare a consultare la nostra serie di video guide riguardanti Tinkercad, un'alternativa a questo programma. Ritornando a Microsoft 3D Builder, per scaricarlo è davvero semplice, basterà aprire il Microsoft Store e cercare sulla barra di ricerca Microsoft 3D Builder. Una volta fatto questo e caricata la pagina andiamo sulla prima applicazione che compare e clicchiamo su Install. E una volta che sarà installata possiamo cliccare Open per aprirla. Quindi una volta caricato il programma, clicchiamo New Scene e ci ritroviamo sull'interfaccia. Andando a guardare quindi subito in alto a sinistra, troviamo un menu generico dove all'inizio troviamo opzioni relative alla gestione dei file, dopodiché opzioni relative ai vari servizi di stampa che potremo utilizzare all'interno di questo programma e dopodiché due tab, una che ci dà informazioni sul modello che stiamo creando e l'altra che invece ci dà informazioni sulla stampante 3D che potremo aver collegato al programma. Guardando avanti troviamo il primo tab legato alla modellazione 3D. Da questo infatti possiamo andare ad aggiungere le forme di base alla nostra superficie di lavoro, in questo modo. Quindi mettiamo un cubo e aggiungiamo per esempio anche un cono. Andando avanti troviamo le prime impostazioni relative alla modifica dei nostri oggetti. Infatti troviamo per esempio il pulsante Duplicate che ci permette di creare una copia dell'oggetto selezionato, in questo modo. Dopodiché il pulsante Copy che registra una copia dell'oggetto selezionato e tramite il pulsante Paste ne crea per l'appunto una copia che possiamo andare ad eliminare semplicemente cliccando il pulsante Cut. Andando avanti poi troviamo il pulsante Delete che ci permette per l'appunto di andare a cancellare definitivamente l'oggetto selezionato. Dopodiché il pulsante Settle che ci permette di guardare alla stabilità dell'oggetto ponendolo orizzontalmente sul piano di lavoro. Dopodiché lo strumento Mirror che ci permette di specchiare l'oggetto sul proprio asse X. E per finire lo strumento di misura che ci permette di misurare la distanza fra due punti dell'oggetto selezionato. Proseguendo troviamo la Edit Tab che è quella che ci permette di andare realmente a modellare e modificare i nostri oggetti. Il primo strumento di questa è lo strumento Simplify. Che ci permette di semplificare la geometria dell'oggetto selezionato semplicemente riducendo le facce dell'oggetto alleggerendo il carico che questa ha sul processore del nostro computer. In questo modo. Quindi aggiustando lo slider diminuiamo e aumentiamo le facce dell'oggetto. Proseguendo troviamo lo Split Tool che ci permette di separare a seconda dell'altezza che abbiamo selezionato l'oggetto dividendolo. Dopodiché troviamo lo strumento Smooth che ci permette di smussare il nostro oggetto aggiustando questo slider. Dopodiché abbiamo l'emboss tool che ci permette di imprimere sul nostro oggetto non solo font o scritte che andiamo a personalizzare tramite questa interfaccia ma anche più semplici immagini e pattern in questo modo. Una volta cliccato in Boss vedremo che ciò che abbiamo scritto è stato impresso sul nostro oggetto. Proseguendo troviamo lo strumento Extrude Down che ci permette di estrudere verso il basso una delle facce del nostro oggetto in questo modo. Dopodiché troviamo il Merge Tool che ci permette di unire in un unico oggetto i due oggetti selezionati. Al contrario, proseguendo, troviamo l'Intersect Tool che ci permette di creare un negativo da due oggetti che si toccano come in questo caso. Come potete vedere siamo andati ad ottenere la sottrazione del cubo e della piramide. Andando avanti troviamo lo strumento Subtract che ci permette di sottrarre ad un oggetto l'altro. In questo caso, come potete vedere, abbiamo tolto dal volume del cubo il volume della piramide. E per finire abbiamo lo strumento Hollow che ci permette di andare a creare una forma cava con uno spessore che possiamo selezionare attraverso questo slider. Dal più spesso, come in questo caso, fino ad estremamente fino, come in questo. Fatto questo, andiamo al prossimo tab, ovvero quello che ci permette di modificare non solo il colore e l'aspetto dei nostri oggetti, ma anche il materiale e la texture. Infatti, cliccando su Material, possiamo andare a modificare tutte le proprietà relative al nostro oggetto. Per esempio, se vogliamo vederlo in maniera più realistica o magari in maniera traslucente, se vogliamo eventualmente cambiare il colore. Se vogliamo una finitura più opaca o più lucida. Se in caso questa finitura lucida vogliamo sia metallica. E che tipo di finitura metallica vogliamo andare a dare al nostro oggetto. Bene, clicchiamo Apply per applicare le nostre modifiche. Con questo pulsante invece possiamo modificare semplicemente il colore di base del nostro oggetto, come in questo caso. E con lo strumento Texture possiamo andare a dare a una delle facce del nostro oggetto una texture particolare, come in questo caso. Proseguendo, arriviamo al pannello View, che ci permette di modificare il modo in cui vediamo l'oggetto, ma anche di andare a scegliere quali sono le opzioni grafiche che il programma andrà a interpretare sui nostri oggetti. Quindi cliccando Center View la vista si sposterà e andando a cliccare Shading toglieremo tutte le ombre. Dopodiché cliccando Shadow le riapplicheremo. Dopodiché Colors potremo togliere o mettere i colori ai nostri oggetti. Dopodiché abbiamo il pulsante Reflection che ci permette di togliere e mettere le riflessioni nel nostro oggetto. Infine il pulsante Smoothing che ci permette di vedere l'oggetto più smussato o meno spussato. Cliccando Wireframe andiamo a vedere la struttura dei nostri oggetti e cliccando il pulsante Grid andiamo a togliere e mettere la griglia di sfondo. Infine abbiamo il pulsante X-Ray che cliccando ci permette di andare a vedere solo l'oggetto che abbiamo selezionato, isolandolo e rendendo tutti gli altri oggetti trasparenti. Ignorando il pannello Help che ci riporta solo al sito di Microsoft guardiamo a destra dove possiamo trovare in altro un pulsante che ci direzioni direttamente a dei servizi di stampa 3D per realizzare i nostri oggetti. Qui d'accanto il pulsante Salva e dopodiché i Do and Undo button. Guardando sotto invece abbiamo questo menu a tendina che ci permette di creare con gli oggetti selezionati gruppi o di togliere i suddetti gruppi. Di andare a selezionarli tutti, eventualmente di deselezionarli tutti o andare ad operare una selezione invertita che selezionerà l'oggetto che non abbiamo precedentemente selezionato. Dopodiché abbiamo la Sticky Selection che ci permette di selezionare tutti gli oggetti attaccati fra di loro in un solo colpo ed infine un piccolo menu che ci mostra tutti i nostri items e che ci permette di selezionarli uno ad uno. Quindi per questa semplice prima guida della nostra serie di Microsoft 3D Builder è tutto. Per altri video come questo seguite il canale JBDTube.